di quante ore si lavorano in un mese, perché se noi moltiplichiamo 9 euro lordi all'ora per le ore mediamente lavorate da un metalmeccanico in un mese che sono 173, significa che noi fissiamo uno standard di salario minimo di base di ingresso, il primo, a 1550 euro lordi. E' troppo alto, Damiano? Ma certo che è troppo alto, certo l'ha detto anche l'Ocse, ma di quante ore si lavorano in un mese, perché se noi moltiplichiamo 9 euro lordi all'ora per le ore mediamente lavorate da un metalmeccanico in un mese che sono 173, significa che noi fissiamo uno standard di salario minimo di base di ingresso, il primo, a 1550 euro lordi. E' troppo alto, Damiano? Ma certo che è troppo alto, ma certo che è troppo alto, certo l'ha detto anche l'Ocse.